rivoluzione per la sanità la regione vara la riforma movida molesta altri vandalismi agli stabilimenti balneari università da settembre si torna a pesaro studi il dono di una carrozzina per la prima volta al mare di sofia work up di ritmica per la tredicesima volta a pesaro buona serata tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro spazio dell'informazione serale di rossini tv canale 80 primo tg di questa settimana la cui apertura la dedichiamo alla sanità della regione marche che ad un punto di svolta nell'odierna riunione della giunta regionale infatti l'assessore alla salute filippo saltamartini ha presentato la proposta definitiva del modello di riforma della legge 13 che punta a riorganizzare radicalmente gli enti del servizio sanitario regionale e di servizi territoriali secondo quanto si apprende la riforma dovrebbe infatti prevedere la realizzazione di cinque aziende sanitarie provinciali che azzererebbero l'asur mentre l'azienda ospedaliera di marche nord potrebbe essere riassorbita nella neonata azienda sanitaria provinciale di pesaro e urbino non verrebbero invece toccate le aziende ospedaliere di ancona ora dovrebbe partire una serie di confronti fra tutti i soggetti interessati per poi portare la riforma all'approvazione nei prossimi consigli regionali ed ora la cronaca hanno comprato delle scarpe contraffatte e sono stati pure multati per acquisto in cauto si tratta di alcuni pesaresi ai quali è risalita la guardia di finanza di treviso pesaresi che risultano fra le decine di acquirenti di scarpe sneakers vendute online da una coppia della città veneta che proponeva a prezzi dimezzati calzature delle valore di mercato di circa 500 euro le scarpe erano invece commissionate a fornitori cinesi che le spedivano a treviso dopo averle personalizzate le indagini sono nate a seguito della denuncia presentata dall'azienda marchigiana proprietaria del marchio e così è stata perquisita l'abitazione dei due indagati sequestrata merce pronta alla spedizione così come i telefoni utilizzati per la gestione online della rete di commercio illegale gli acquirenti multati rischiano invece una sanzione compresa fra i 100 e i 7 mila euro e non siamo ancora arrivati nemmeno al mese di giugno ma continuano a ripetersi con frequenza allarmante gli episodi di vandalismi ai danni degli stabilimenti balneari di pesero l'ultimo episodio nel weekend appena trascorso ancora nella zona levante dove essere presi di mira sono stati stabilimenti come bea beach bagni giro e bagni gilberto all'origine dei danni una festa di giovanissimi in un bar poco distante festa che a quanto pare è degenerata in cabine danneggiate che oggi si presentavano già quasi del tutto riparate ma che hanno comunque indotto i gestori degli stabilimenti a fare denuncia e a presentare un esposto al prefetto e ora ci occupiamo dell'università degli studi di pesero che dalla sede temporanea di palazzo gradari ha in programma di riappropriarsi di pesero studi dopo anni di abbandono della struttura di viale trieste da palazzo gradari a pesero studi da viale trieste alla prospettiva di un trasloco definitivo di nuovo in centro storico presumibilmente al san domenico e questa la parabola di spostamenti che si delinea all'orizzonte dei corsi universitari di pesero che crescono e che devono riappropriarsi di spazi più ampi spazi che vanno verso un ritorno all'antico in quella sede di viale trieste che al giorno d'oggi mostra tutti i segni del tempo di anni di abbandono ma che entro settembre dovrebbe essere rimessa a punto per ospitare sia i corsisti sia gli studenti della scuola media lighieri nel momento in cui partirà il radicale piano di ristrutturazione dell'edificio scolastico di soria i corsi aumentano perché quest'anno ci sarà nuovo corso sull'ecosostenibilità e sempre un corso di ingegneria e andranno in viale trieste nella vecchia sede e chiaramente sarà provvisorio perché poi l'intenzione è quella di portare l'università verso il centro storico però in questi due anni ci sarà appunto l'opportunità per i ragazzi di essere tutti insieme sia con il corso che è partito nel 2020 sia il nuovo corso che è partito nel 2021 e adesso il corso che ci sarà sempre di ingegneria nel 2022. I corsi che ci saranno saranno nella parte di sinistra perché poi nell'altra area ci sarà la scuola che dovrà essere ristrutturata quindi di conseguenza nell'area dove l'università occuperà gli spazi sarà distaccata dalla scuola media sarà a sinistra il primo piano e quindi avrà gli uffici se ritornerà ad essere diciamo l'università che era prima però ripeto che è sempre una situazione provvisoria perché l'intento è quella poi di riportare tutto verso il centro storico. Dalla ristrutturazione di Pesaro Studi a quella del San Domenico pensata per fare una sede definitiva per l'università attraverso fondi PNRR si punta ora a creare sedi accademiche che viaggiano di pari passo a corsi che guardano al futuro come quello dedicato ad un ingegneristico sviluppo green. È il futuro perché parliamo di ecosostenibilità con questo nuovo corso l'università di Urbino e l'università di Ancona si sono unite per creare questo corso sicuramente innovativo. Abbiamo avuto il festival della comunicazione sabato dove c'è stata tantissima partecipazione da parte dei ragazzi dove abbiamo anche interagito con loro abbiamo voluto capire anche quali sono le loro esigenze e le loro idee e devo dire che emerge il fatto di tutti questi materiali nuovi innovativi quindi dobbiamo formare le persone pronte a entrare nelle imprese con questo nuovo modo di fare sviluppo economico. E dai corsi di ingegneria passiamo ad un assoluto luminare italiano capace di una trentina di brevetti nella sua lunga esperienza nella Silicon Valley americana. Parliamo di Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore, autentico padre dei microprocessori che nello scorso weekend è stato ospite delle convegne di confartigianato tenutosi all'hotel Excelsior di Pesaro. Un convegno che potrete seguire su uno speciale d'approfondimento che Rossini TV trasmetterà mercoledì 1 giugno alle 21.40 e di cui vi forniamo ora un breve strato. Oggi a Pesaro il nostro ottavo convegno con un tema che crediamo essere essenziale e fondamentale da approfondire con un ospite d'eccezione. Portare per noi Federico Faggin che è l'inventore del microprocessore quindi la tecnologia che noi oggi utilizziamo è dovuta grazie all'intuizione, l'innovazione, la determinazione di un imprenditore veneto che tanti anni fa nella Silicon Valley ha iniziato a costruire un impero e delle innovazioni di cui tutti noi oggi usufruiamo quindi portare a Pesaro nelle Marche la prima volta nelle Marche un imprenditore così importante direttamente nella Silicon Valley credo che sia il giusto omaggio a una città importante come Pesaro. Il messaggio è di rendersi conto che queste tecnologie sono molto importanti e cambieranno il modo in cui si lavorerà e quindi prepararsi e capire che l'uomo però ha una coscienza che la macchina non avrà mai, non nel futuro, non avrà mai. I miei studi sulla coscienza stanno provando esattamente questo e questo è importantissimo perché altrimenti non c'è soluzione perché le macchine alla fine saranno meglio di noi se accettiamo questo fatto, invece non dobbiamo accettarlo, dobbiamo imparare a essere complementari alle macchine perché lo siamo, non perché vogliamo esserlo e quindi anche richiedere che ci sia una certa onestà di uso di queste macchine perché se no è facile che ci sia abuso. Da inventare c'è come usare la tecnologia in maniera che sia per il bene comune invece di usarla per far soldi e basta e questo per me è molto importante perché c'è sempre questa tendenza di andare in questa strada e quindi abusare della tecnologia per esempio usarla per armi ancora più potenti, cosa che purtroppo si fa sempre e quindi la tecnologia è sempre un'arma a doppio taglio e bisogna imparare a usarla prima che sia troppo tardi, usarla bene. Ed ora una bella storia di solidarietà e inclusione con le immagini emozionanti della piccola Sofia che qualche giorno fa ha potuto godersi la spiaggia di fatto per la prima volta un momento che è stato reso possibile dalla nuova carrozzina donata dalla comunità di Montecchio di Vallefoglia completata e pronta a farle fare il primo bagno al mare della sua vita come potrete vedere nel servizio realizzato da Edoardo Razzi. Per la piccola Sofia è arrivato finalmente il momento di godersi appieno una giornata al mare la carrozzina personalizzata fatta su misura per lei è ora pronta e l'azienda Jolly Casa Medical, con lei che ha reso possibile questo supporto l'ha prontamente consegnata venerdì pomeriggio davanti alla spiaggia di Baia Flaminia era il primo aprile 2022 quando per la prima volta Sofia è salita su questa particolare sedia a rotelle ma da allora mancavano alcuni accorgimenti che a distanza di un mese sono stati apportati per facilitarne le reali funzioni la calda stagione è alle porte e la piccola Sofia e sua mamma Silvia sono pronte a vivere l'estate più bella della loro vita direi che il viso di Sofia sono mille parole più di quanto io potrei magari esprimere verbalmente quindi siamo estremamente felici perché possiamo finalmente utilizzare la spiaggia così come la utilizzano tutti quanti quindi nel mare, camminando anche insieme a Sofia piuttosto che sulla battigia che per noi prima insomma era un discorso piuttosto complicato con una carrozzella normale quindi felicissimi, felicissimi Una donazione arrivata dal cuore della Proloco di Montecchio con il contributo degli organizzatori dei giochi dei quartieri e vorrei rinnovare il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso tutto questo grazie, grazie di tutto cuore Questa carrozzina realizzata con materiali adatti per non essere danneggiata dalla Salsedine è stata completata in sette mesi e per Michele Raffaelli, amministratore della ditta Jolly Casa far vivere emozioni come queste è la soddisfazione più grande è una grande emozione, oggi è una giornata bellissima perché abbiamo realizzato su misura questa carrozzina per la Sofi che da oggi potrà venire al mare in tranquillità, farsi le passeggiate, fare il bagno dall'ultima volta che ci siamo visti abbiamo rispettato i tempi abbiamo fatto quelle modifiche che c'erano da fare quindi abbiamo imbottito e dato la possibilità alla Sofi di essere ben stabile all'interno della carrozzina e adesso sono felicissimo perché queste sono le soddisfazioni più belle del nostro lavoro quindi tutto il resto vengo qua apposta per vivere di queste emozioni, di queste esperienze Quali accorgimenti hai applicato nella carrozzina da aprile ad oggi? Allora, gli accorgimenti che abbiamo fatto io con il nostro staff tecnico sono stati quelli di lavorare sull'imbottitura, sulla regolazione dello schienale che ha la possibilità di essere inclinato per godersi un pochino più la spiaggia avere il poggiapiedi reclinabili che dà la possibilità di poter alzare anche i piedi ma soprattutto l'imbottitura è la parte dove ci siamo concentrati di più per dargli un maggior comfort in tutte le posizioni Perché ricordiamo che con questa carrozzina si può andare sulla spiaggia abbattuta ma anche a fare il bagno Sì, infatti la mamma di Sofi si trasferisce fra poco qua vicino alla spiaggia quindi l'obiettivo suo è venire da casa fino a dentro l'acqua e poi di poter girare in autonomia quindi stando e rimanendo sulla stessa carrozzina E' stato divulgato oggi il programma della 58esima mostra del cinema di Pesaro che sarà in città dal 18 al 25 giugno Già nei giorni scorsi avevamo annunciato l'apertura con E.T. nel 40esimo anniversario delle uscite nelle sale del capolavoro di Steven Spielberg così come lo speciale dedicato al cinema italiano incentrato sul regista Mario Martone Ma ci saranno anche gli omaggi della mostra in questa ricca edizione che andranno a Jonas Mekas, Mario Lodi, Monica Vitti e ai centenari della nascita di attori e cineasti come Vittorio Gasman, Pier Paolo Pasolini, Ugo Tognazzi, Luciano Salce e Damiano Damiani Numerosi anche i focus come quello su Claudia Muratori, Anna Marziano, Riccardo Giacconi e Luca Lumaca 350 metri di camminamento pedonale ed una nuova opera dedicata alle vittime del covid e al personale sanitario che ha lottato per uscire dall'emergenza sono queste le opere inaugurate sabato mattina al parco del campus scolastico di Pesaro Dalla memoria al futuro è stato intitolato così il camminamento pedonale realizzato dalla provincia di Pesaro Urbino dedicato alle vittime del covid-19 e al personale sanitario che ha lottato per uscire dall'emergenza 350 metri immersi nel verde del parco Peppino Impastato a fianco del campus scolastico che vede al suo interno alberi da frutto panchine tavoli in pietra e una nuova opera ad illuminare il percorso la scultura costruita da Leonardo Nobili dal nome Lacerazione 2020 non è solo un motivo di ricordare chi non c'è più ma è anche un simbolo di speranza per i giovani di ambiera di importanti traguardi la scultura è nata anche così per caso che ho avuto modo di trovare questo tronco nella mia zona qua di Montecchio un signore che si chiama Bruno Magi che ha un'officina nella zona e lui mi disse se vuoi un tronco del genere io ce l'ho vieni con me, gira attorno all'officina e mi disse ecco questa è l'opera che potrebbe fare per te io sono rimasto stupefatto perché effettivamente questa grande quercia che rappresenta un po' la potenza addirittura si parla di 400 anni però questa quercia era già stata ferita perché potrei raccontarti un aneddoto che è il periodo dell'ultima guerra a Montecchio c'è stato uno scoppio e le schegge di ferro sono entrate nei rami di questa quercia che in un secondo tempo sono stati costretti a tagliarla quindi è reale quella che vediamo io non ho fatto altro che fargli questa lacerazione come se fosse una ferita una ferita che si stacca dal corpo e pronta per ricompattarsi dove io ho anche inserito questo vetro frantumato che sono le frantumazioni della nostra vita quotidiana ma nello stesso tempo è anche guardare verso lo spazio la trasparenza è una piramide e quindi ha un senso anche di salvezza quando ho incontrato Nobili, l'artista che mi ha parlato di questo tronco che aveva trovato e che addirittura risale era morto poco dopo il bombardamento della seconda guerra mondiale su Montecchio e mi ha parlato di questa lacerazione l'idea mi è piaciuta gli ho detto ok facciamolo lo facciamo lì però non voglio che sia solo un ricordo per le vittime del Covid questo qui deve essere un ringraziamento un riconoscimento a tutti i medici a tutto il personale infermieristico a tutti quelli che sono stati in prima linea e che molte volte sono stati anche bistrattati ecco loro hanno sempre fatto molto più di quello che era il loro dovere e quello che voglio dare e trasmettere ai giovani è la speranza perché la speranza non fa sparire la paura però la mette in secondo piano cioè io so che debbo raggiungere qualcosa so che al di là della paura c'è e potrebbe esserci anzi sicuramente ci sarà un futuro radioso scoperta archeologica a Sant'Angelo in vado dove durante i lavori di scavo per la posa della fibra ottica a banda larga è tornata alla luce un tratto di uno dei cardini della città dell'antica Tifernum Mataurense in prossimità di via Pubblico Giardino secondo le indagini scientifiche di Diego Voltolini archeologo della soprintendenza archeologica delle Marche è emersa sebbene danneggiata la stratificazione relativa alla vita e all'abbandono della città romana individuando anche un piano stradale a non molte decine di centimetri dalla strada attuale le operazioni di scavo archeologico hanno permesso di individuare così la corretta collocazione delle infrastrutture per la fibra ottica preservando i resti antichi che adeguatamente protetti sono stati reinterrati dopo essere stati documentati le Adriatic Series di Triathlon che hanno fatto tappa a Pesaro si sono trasformate ieri in una competizione di Duathlon a causa del maltempo che ha costretto ad annullare la competizione di nuoto prevista Duathlon che ha visto trionfare tra gli uomini Lorenzo D'Altri davanti a Emanuele Grenti e a Marco Franceschi nelle donne vittoria di Giorgia Bandini davanti a Elisa Monachini e a Emanuela Montanari Ancora sport maxi sospiro di sollievo per l'alma Juventus-Fano che nei play-out di Serie D pareggia 1-1 al Mancini col Castelfidardo e ottiene la salvezza condannando i fidardensi alla retrocessione in eccellenza ospiti in vantaggio con Fermani nel primo tempo Fano che sbaglia un rigore con Herrera ma che acciuffa il pari al novantesimo con Casolla 1-1 che resta tale ai supplementari garantendo la salvezza all'alma in virtù del miglior piazzamento in stagione weekend importante anche per la Vispesero che ha scelto il suo allenatore per la stagione 2022-2023 salutato Marco Banchini sarà David Sassarini il nuovo tecnico il 49enne Spezzino torna a Pesero dove ha già allenato nel 2016-2017 vincendo i play-off di Serie D e invece nei play-off di Serie A di calcio a 5 l'Ital Service ha stravinto sabato i quarti di finale per 6-1 in casa del Ciampino Agniene partita che tra l'altro avete potuto seguire live su Rossini TV un risultato che dunque rende comoda la gara di ritorno per i pesaresi prevista mercoledì 1-1 giugno alle 20 al Pala Badiali di Falconara a causa della indisponibilità del Palafiera di Pesero è ancora sport ma per parlare di un evento di caratura internazionale che ha messo le tende a Pesero da ben 13 edizioni stiamo parlando della World Cup di ginnastica ritmica che arriva alla Vitri Frigo Arena dal 3 al 5 giugno con la significativa presenza della nazionale ucraina e con un'Italia con ambizioni davvero altissime dopo un anno di stop per pandemia e un 2021 di competizioni senza pubblico la World Cup di ginnastica ritmica torna alla Vitri Frigo Arena che si conferma abituale casa della Kermess da 13 edizioni nel comune di Pesero è stato presentato oggi l'appuntamento dal 3 al 5 giugno con una Vitri Frigo Arena a capienza piena e una World Cup pesarese che sarà la tappa di chiusura del circuito dopo gli appuntamenti di Atene Sofia Tashkent e Baku è la tredicesima edizione di Coppa del Mondo considerate che nel frattempo abbiamo anche organizzato un mondiale possiamo dire che la città la Vitri Frigo Arena insomma si confermano veramente il polo centrale in cui la ginnastica ritmica ha trovato casa e dove dà il meglio di sé è un indotto importante anche sotto il profilo turistico non solo per i numeri che si fanno in città ma per la promozione che è un evento di questo genere ci ha sono previste dirette televisive nazionali ma sono decine e decine i media internazionali che si stanno accreditando e che trasmetteranno via streaming poi la manifestazione nelle nazioni di provenienza siamo molto fiduciosi pensiamo di avere tanta gente abbiamo le dirette in televisione con la 7 direi che la ginnastica sta crescendo tanto non solo nella ritmica saranno 32 le nazioni in pedana con 140 ginnaste in gara e con una nazionale quella ucraina che sarà a pesaro per una presenza che andrà al di là dei connotati sportivi appena scoppiata la guerra in ucraina mi sono sentita di sentirmi con la Irina Zirugina che è la responsabile della nazionale ucraina dicendogli che l'Italia c'era naturalmente l'ho chiamata come team manager della federazione ma poi gli ho detto che anche la coppa del mondo era disponibile ad aiutarli e loro al momento non sapevano insomma cosa fare se era possibile o meno poi abbiamo visto che si sono iscritte a tutte le coppe ma si sono poi cancellate e poi ci siamo risentite loro insomma hanno intravisto una possibilità di venire non è facile dovranno prendere un pullman da Kiev a Varsavia quindi sulle 13-14 ore di viaggio e poi prenderanno un aereo da Varsavia dovrebbero arrivare domani speriamo ecco è stata comunque una collaborazione tra il comitato organizzatore che lo ospiterà per 15 giorni nel comune di Pesaro e in più rimarranno dopo la coppa del mondo un'altra settimana per prepararsi al campionato d'Europa di Tel Aviv quindi da Pesaro andranno direttamente a Tel Aviv così gli abbiamo dato questa possibilità di partecipare sia alla nostra coppa che al campionato d'Europa e in quella settimana non avendo delle palestre disponibili né a Pesaro né a Fano abbiamo trovato la collaborazione della fiera dei Rimini che ci lascerà un modulo tutto per loro e quindi è veramente stata una unione di forza tra tanti enti fortissime le ambizioni dell'Italia con la squadra delle Farfalle Azzurre composta da Alessandra Maurelli Martina Centofanti Agnese Duranti Daniela Mugurean Laura Paris e Martina Sant'Andrea mentre tra le individualiste si annunciano protagoniste le marchigiane Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri nella storia entreremo perché se tutto va bene dovrebbe vincere il circuito di Coppa del Mondo 2022 un'italiana e non è mai successo è veramente qualcosa di straordinario la nostra nazionale italiana lo stesso le Farfalle e quindi penso che sarà una Coppa che ci ricorderemo per tanto tempo ci sono tante nazioni ma l'Italia in questo momento anche dovuto al fatto della guerra e quindi della mancanza della Russia bisogna dirlo della Bielorussia chiaramente abbiamo un vantaggio però con la squadra come sta andando in questi ultimi tempi penso che non ce ne sarebbe stato per nessuno insomma fino ad oggi perlomeno è così speriamo che continui così anche nei prossimi dieci giorni e si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21.20 di questo lunedì 30 maggio è dedicata al convegno che si è tenuto al cinema a Stra di Pesaro organizzato da Arte e Scienza per quello che riguarda gli sviluppi della tecnologia all'infrarosso appuntamento questa sera alle 21.20 l'informazione su Rossini TV poi torna puntuale domattina alle 7.20 rigorosamente in diretta come si conviene alla nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini che va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato per quello che riguarda l'edizione di domani martedì 31 maggio la conduttrice di Buongiorno Rossini sarà la nostra Emanuela Rossi e poi vi ricordiamo l'app di Rossini TV vi invitiamo a scaricare questo strumento che vi consente di avere a portata di smartphone la possibilità di consultare le nostre notizie il nostro palinsesto di programmi conoscere meglio la nostra emittente o semplicemente inviare alcune segnalazioni a Rossini TV ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi e di tutta la redazione